movimento artistico principalmente pittorico formato da artisti vagamente affiliati che guardavano a certi aspetti del romanticismo del XIX secolo in particolare alla tradizione visionaria del paesaggio di William Blake e Samuel Palmer reinterpretandoli in un linguaggio più moderno. Il termine fu coniato dal critico Raymond Mortimer nel 1942. Tra i pittori e gli artisti grafici rappresentativi del movimento ci furono John Minton, John Piper e Grafam Sutherland che lavorarono tutti all'interno della tradizione paesaggistica considerata come prettamente nazionale proiettando un'immagine romantica della campagna nel periodo in cui si trovava sotto la minaccia della Germania nazista. Altri artisti la cui opera è stata qualificata come neoromantica furono il poeta Dylan Thomas, il regista Michael Powell e fotografi quali Bill Brent e Edwin Smith. Questo movimento artistico ha operato tra il 1935 e il 1955. Il neuromanticismo è nato in Gran Bretagna dove ha avuto grande diffusione ma ha avuto delle rappresentanze anche in Francia. Nel corso della storia dell'arte accade spesso che si guardi al passato ad espressioni artistiche del passato per rielaborarle e creare qualcosa di nuovo nella contemporaneità. È successo per il neoclassicismo, per il neoespressionismo e per altri movimenti che mettono il prefisso neo davanti al proprio nome. Questo vale anche per il neuromanticismo che nella creazione di paesaggi immaginari di impronta onirica con personaggi a volte inquietanti si è ispirato al romanticismo del XIX secolo. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!